nei due gironi di terza categoria tutto definito almeno per quanto riguarda il girone D con la vittoria dello skill agent già da tre settimane e nel girone C il marca sta facendo un passo importante proprio per la vittoria per arrivare alla promozione in seconda categoria si lotta fino all'ultimo tra Belvedere e Conflenti e domenica ci sarà proprio lo scontro diretto 2 a 2 è finito l'incontro all'andata e quindi tutto quanto dovrà definirsi in questa partita importante di domenica prossima ci sono ancora quindi due partite da giocare e però a questo punto bisognerà verificare quello che riusciranno a squadra il Conflenti già ha avuto un'occasione importante contro il marca ed ha perso in casa bisognerà vedere per domenica cosa fa nella partita casalinga proprio appunto contro il Belvedere vittoria vittoria del contro il Mach 3 quindi del Belvedere però che quasi a questo punto elimina dalla lotta per la promozione appunto questa squadra e fa sì che il campionato possa quasi essere finito nella zona alta perché con il marca che ha ben 45 punti per vedere i completi potrebbero avere quindi 42 punti e domenica prossima avvicinarsi sempre di più o quanto meno rimanere con i tre punti le altre squadre quelle che sono al quarto e al quinto posto rischiano di non fare il playoff e a quinto si potrebbe addirittura finire il campionato con tre promozioni dirette perché in terza ci sono tre promozioni e quindi non ci sarebbero addirittura i playoff